Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Salve a tutti, bentornati a Risolto Giallo da Alessia Sorgato. E buonasera da questo grande ritorno in questa posizione che è stata, come dire, occupata da altri pretendenti ma questa volta ritorna all'originale. Buonasera a tutti, io sono Niccolò Mazzavillani per coloro che magari se ne sono dimenticati. Eh beh, dopo due mesi abbiamo rischiato. Invece non rischieremo di dimenticarci il nome, le fattezze e soprattutto l'opera del nostro ospite odierno. Buonasera, Lilleluini. Buonasera a tutti, benvenuta. Buonasera, buonasera. Che per comodità la chiameremo Lillu. Lillu? No, no. Chiameremo Lillu. È una delle mie password, Lillu. Quella del Bancomat, per dirla bene. No, è quella del Bancomat. Quella dell'Home Banking. Bisognerebbe scrivere un giallo sulle password, eh? Sì, soprattutto sulla dimenticanza delle password. Non avrebbe mai capitato di svegliarvi, andare al Bancomat, arrivi lì e non te la ricordi più. Ma è andata. Una volta mi è capitato. E cos'hai fatto? Lillu sono cavoli amari perché non hai molti tentativi. Quindi può essere uno, può essere la terza. Se la sgarri, tutto bloccato. In questo caso cosa si fa? Io ho cambiato. Ho dovuto cambiare il Bancomat perché non è tornata più. Ma perché te l'ha mangiata? No, no. Non è tornata più la password. Non me la ricordavo più. Non l'ha scritta da nessuna parte. In quel caso blocchi tu scosso. Perché la password dell'home banking te la crei, ma quella del Bancomat te la impongono. Esatto. Quindi non riesci a collegare. Lo so. Ma come farebbe un profiler? Un profiler. Tipo per esempio quella. Un profiler dovrebbe analizzare la persona e vedere perché se l'hai dimenticata. Perché io personalmente ce l'avevo da 7-8 anni. Non l'avevo mai dimenticata. Quella mattina lì sono arrivata lì e ho detto basta, non c'è più, non c'è neanche provato. E non c'era più. È anche una forza dell'abitudine. Si è abituato, abituato, poi vai in automatico. Si crea un buco. La nostra mente è fatta in maniera molto particolare. Io vorrei riportare però l'attenzione alla parola profiler. e all'attributo la tua profiler. La mia profiler. Chi è la tua profiler? La mia profiler è una donna di 35 anni. È una milanese nata a Milano, cresciuta a Milano e da Milano scappata via perché nel 95 quando lei aveva 13 anni abitava qua a San Siro e una sera rientrando dal... Ha incontrato i mazzavillani. Dal cinema. Non credo. Rientrando dal cinema hanno trovato lei e i genitori tre rapinatori e il padre è stato assassinato lì sulla porta di casa e da lì ovviamente la madre ha venduto casa, sono andati via e si sono trasferiti a Firenze. Infatti i miei gialli polizieschi sono ambientati a Firenze. Beati loro che hanno trovato casa a Firenze che Firenze è difficilissimo trovare casa. Ma lui non ha voluto trovare appena altro. Allora, ascolta, Pennac diceva se la vita è quello che è il romanzo ha il diritto a essere quello che vuole quindi nei romanzi ci possiamo permettere di fargli trovare casa. Assolutamente, è l'unico modo per trovare una casa. Se l'ha detto uno che ha reso un caprespiatorio il personaggio amato e amabile Esatto, gli dobbiamo credere. Come mi sembra lo sen, gli consentiamo tutto. Allora, facciamo vedere queste copertine. Tanto per cominciare perché oggi c'è una cosa particolare. Io ne ho due. Niccolò ne ho altre due. Esatto. Ma sono le stesse. Esattamente. Non siamo pazzi, ma perché quella che ha Alessia è l'edizione originale. La prima edizione. Questa invece è la seconda edizione. Quindi quella più recente. E non possiamo non notare anche un cambio proprio estetico delle copertine. Mi viene da dire che queste, non so, appena le ho viste mi hanno ricordato un po' quelle copertine di alcune edizioni dei romanzi di Agatha Christie. Non so. Ma in effetti volevamo dargli una bella tinta nera ok, o scegli il giallo o scegli il nero perché il blu ci ha già pensato Sellerio per cui non lo puoi fare. E il giallo è molto difficile da abbinare. Il nero, come va un po' su tutto, snellisce. Ci rende sfina. Ci rende sfina. Esatto. Esatto. E abbiamo pensato di fare una serie di copertine che richiamino, che si richiamino l'una con l'altra, che rendano il prodotto, il libro in questo caso, riconoscibile. Però anche queste erano le ore. Queste però erano... Allora, la differenza è che queste sono fotografie, quelle fatte con l'intelligenza artificiale. Cicchie ci ha aiutato tantissimo a migliorare la grafica, ecco. Attenzione che sta arrivando anche nel nostro ambito questa intelligenza artificiale. Purtroppo sì, ma purtroppo come tutte le cose dipende da come la usi. Certo. Se tu usi anche internet, tutto quanto, se tu li usi bene sono delle risorse incredibili. Se le usi male sono un disastro, ma sta sempre all'uomo e poi comunque l'intelligenza artificiale ha bisogno di un uomo perché in questo caso gli devi dire che cosa vuoi. Quindi gli dici io voglio una copertina con una ragazza fatta così e così, che si veda così e così e dopo un ton di tentativi, perché poverina anche lei c'ha i suoi problemi, riesce a ottenere un po' quello che vuoi. Tra l'altro, tre giorni prima di Natale, uno potrebbe pensare è un film per famiglie, cioè un libro per famiglie, in realtà no. No, assolutamente no. Non è proprio questo il caso. No, assolutamente no. Io cerco di non essere troppo splatter e troppo horror, perché non mi piace. Mi piace il poliziesco, mi piace che chi legge, almeno io da lettrice, amo molto seguire quello che fanno gli investigatori e mi diverto anche a vedere se arrivo prima di loro. E anche se ci arrivo prima, voglio vedere loro da che strada ci arrivano. Quindi per me il gioco è questo, non è un gioco di splatter. Ecco, dopodiché la realtà ci sta sempre davanti. Quindi chi scrive gialli, a certe volte leggo sul giornale delle cose, che dico, vabbè, ma se lo avessi scritto io, l'editore mi diceva, sì, vabbè, però. Questo è un tema molto caro, ha risolto giallo. L'abbiamo detto tante volte che la realtà fa sempre un passo avanti rispetto alla fantasia e gli autori si intimidiscono di fronte alla possibilità di passare per visionari. Allora, abbiamo detto che la tua... Non abbiamo detto come si chiami la tua? Lorena Montaldi. Lorena. Detta? Lory. Posso dire un dettaglio? Un giorno mi ha scritto su Instagram Lorena Montaldi, che aveva letto i miei libri. La quale? Era contentissima. Non è partita una causa. No, è questa. Allora, sui nomi dei personaggi, soprattutto quando scrivi gialli, c'è sempre un discorso da fare. Io metto il nome e cognome su Google e vedo se c'è qualcuno su Facebook che si chiama così, eccetera. Cerco di evitare. Lorena Montaldi no, non ho fatto così perché mi è piaciuto, mi è venuto spontaneo, mi è piaciuto così, si è presentata con questo nome. Poi, nel mio piccolo, non pensavo di beccare una Lorena Montaldi che mi leggesse, invece mi ha scritto, mi ha fatto tantissimo piacere e adesso siamo in contatto. Quella volta che non ha fatto la ricerca il risultato... Esatto. Ti dirò una cosa, io sono andata a una riunione a Sky e avevo con me, non so quanti ai fossimo, perché loro, sai queste grandi major, tu lo sai perché ci lavori, non è che fai la riunione one to one, fai one to nove. Esatto. Uno dei nove era una Lorena e io, quando si presenta, dico, ma che nome particolare, non è usuale, pensa che in questo momento sto leggendo, perché stavo proprio leggendo i tuoi, sto leggendo dei gialli che è rimasta così, con l'occhio dilatato, a volpe in autostrada, mi fa veramente, ma perché io lo odio il mio nome, lo odio, però i libri mi li compro. E vede, è già buono anche questo. Cosa vuoi fare? Quindi la nostra Lori vive a Firenze, in un quartieraccio. No, abita in Oltrarno, vabbè, ma la madre era una dirigente di una casa di moda, per cui non erano gente proprio, abitavano San Siro, anche qua, quindi è gente di un certo livello, come diceva Fabio De Luigi tanti anni fa. Niente, lei vive a Firenze, in Oltrarno, e ha un'amica che dice di se stessa, mi ha preso solo in polizia perché andavo male in tutte le materie. E questa sua amica lavora appunto in squadra mobile e un giorno la chiama, siccome Lorena ha preso una specialità in America in criminologia, la chiama e gli dice abbiamo un delitto che non sappiamo che pesci pigliare. Vieni a vedere le fotografie. Ed è il Natale. No, è quello che, no, è il primissimo che io in questo libro racconto solo un po' così. e tu non ce l'hai. Ci ha depistato e non ce l'abbiamo. Ecco, in tre giorni prima di Natale racconto come è entrata a far parte della squadra mobile e quindi lei presta, oltre a fare in realtà il suo lavoro un altro, lei è un perito del tribunale e quindi lei si occupa soprattutto di minori carcerati e poi fa la profiler per quando la chiama per i casi complicati la squadra mobile di Firenze. Il tema dei minori era da un po' che non tornava qua, o sbaglio? Allora, qua rimane sotto traccia perché io, lei lavora con i minori per cui ogni tanto chiaramente dato che la sua quotidianità è anche nel nuovo e c'è una storia di minori che è la trama nei gialli i lettori amano la trama secondaria per cui poi uno dice quando scrive se non gli piace la prima magari gli piace la seconda perché a me è capitato tante volte di seguire un libro per una trama sotto traccia e quindi c'è sempre qualcosa sui minori però parlare dei minori in maniera ampia e profonda è veramente una scommessa perché è un tema in cui oltretutto bisogna pensare una cosa io non sono una scrittura veloce io ci metto magari un annetto un annetto e mezzo a scrivere un giallo rimanere un anno un anno e mezzo in una storia del genere no cioè sinceramente io in passato ho scritto degli altri libri con un socio di scrittura di cui uno sull'andrangheta e assolutamente non scriverò mai più un libro sulla mafia sull'andrangheta perché stavo meglio prima di saperle certe cose perché la ricerca è sempre comunque enorme per fare questo genere di libri e quindi no preferisco stare un po' più sì delitto vabbè temi molto temi meno sempre realistici sempre legati alla nostra società perché sono comunque temi legati alla nostra società però non così dolorosi per me perché io patisco Dio Luini mi perdoni ma io leggendo soprattutto cui i fiori non crescono qualche seratina con l'occhio lo so spalancato me la sono fatta ho una brutta una specie di squid game loro facevano una squid game italiana e diciamo che questa è una storia che mi è venuta proprio stando al mondo perché effettivamente una delle cose che fanno più io sono sono lavorato in sociologia e sulla comunicazione ho fatto una tesi sulla comunicazione distorta e mi è rimasta molto dentro e quindi sono molto attenta alla comunicazione anche quando guardo la televisione quando vedo il telegiornale eccetera sono molto attenta a questi temi e quindi di conseguenza vedo patisco molto questa l'indifferenza che vedo la maniera di guardare le cose di parlare l'uso delle parole spietato e soprattutto questo senso di come c'è in questi fiori non crescono questo senso di di nulla perché questi fiori non crescono è proprio la banalità del male scusate la banalità che ho detto ma è una una proprio la banalità del male perché quando questi si arrivano a scoprire che cosa c'è dietro questa storia e si guardano in faccia e dicono non è possibile cioè è questo che che ti fa male e del resto dei casi del genere ne abbiamo visto tantissimi di omicidi di cui non si sa il perché perché è successo perché mi annoiavo perché ecco questo per me è un tema molto forte nella nel nuovo affronto un po' anche un altro tema che è quello delle famiglie disfunzionali in un certo modo di di educare quindi sarà il tema del prossimo c'è già anticipato una domanda lo stai scrivendo no l'ho finito esce il 5 di aprile sempre per edizione il vento antico il terzo la terza indagine di Lorena fantastico allora ti faccio una domanda io poi ti lascio a Nicolò perché so che gli preme proprio sulla punta della lingua la geolocalizzazione dei tuoi romanzi allora c'è un un dettaglio che io ho notato subito e sul quale chi mi conosce tipo Mazzavillani sa che sono attentissima e cioè l'esattezza dell'utilizzo della terminologia giuridica che nel tuo caso è magistralmente resa e non lo dice spesso non ne ho beccato mezzo di errore non ne ho beccato mezzo guarda che ho setacciato a fondo ho proprio fatto come paperone nel Klondike tu però hai appena finito di dire che hai studi non sono non ho studiato giurisprudenza e quindi e quindi ho studiato dopo studi tu la procedura no studio per per scrivere questi libri non faccio niente che non sia controllato quattro volte poi mi può capitare l'errore perché c'è lo scrittore che studia e non mi scrive il mandato no non te lo puoi permettere nel giallo non te lo puoi permettere io divento una belva se lo trovo nei gialli c'è una una luce che in questo momento sta colpendo Alessia proprio perché sono parole al miele per lei ma tu sei la ragione di rispredenza sì sì io sono avvocato penalista così dice nessuno ha mai visto la targa no guarda per me è un'idiosincrasia perché per me un giallista è di due tipi o fa finta di nulla e fa come faceva Camillere per cui a chi di dovere e non ti dice a chi vada un certo documento e se la cavava così oppure si fa come te si studia rigorosamente oppure si fa come fanno tutti quelli che seminano le loro narrazioni di giuridiche inesattezze cosa per cui si perdono una bella fetta di lettori perché attenzione secondo me gli avvocati magistrati sono in prima fila ma si perdono anche me perché me ne accorgo se c'è qualcosa che non quadra allora la procedura sulle procedure ho studiato a fondo chiaramente non ho il linguaggio comune perché io sono convinta che voi certe cose le chiamate in un altro modo tra di voi però non ci posso fare niente perché io non lo so e quindi avrei bisogno al limite di un editor che è un avvocato ma non ce l'ho e quindi ce l'hai qua di fianco ecco e adesso ce l'ho adesso ce l'ho e ti telefonerò perché comunque poi io faccio delle cose strane per dire in cui i fiori non crescono a un certo punto loro vanno se non erro se mi ricordo bene perché è passato qualche anno in procura a Piacenza io me la sono fatta tutta con Google Map ho fatto tutto il giro della procura perché comunque dentro me la devi immaginare ogni tanto vado su è un bel palazzo antico vado su YouTube e guardo se c'è qualche video di qualche conferenza se tu hai bisogno ma vieni con me mi fai la portaborse fai finta di essere la mia praticante la giovane di studio così non la fanno più uscire e mi faccio entrare proprio oggi pomeriggio è venuto da me uno scrittore che vuole venire in aula esatto per cui cerco di documentarmi brava però quello che mi manca brava ecco guarda io faccio un'ultima domanda che è una doppia domanda prima di salutarci e ha detto giustamente Alessia una domanda legata una domanda geografica sì col fatto che tu prima hai parlato delle origini di come si chiama Lorena Lorena a te piace Lorena come nome come nome beh non è un nome brutto non mi dispiace come nome non è dei miei preferiti era di moda qualche anno fa negli anni 80 era di moda negli anni 80 da parte di mamma non è effettivamente un nome che mi piace tantissimo comunque rapporto Milano Firenze lei nasce cresce a Milano poi a seguito di questo di questo omicidio del padre si va a Firenze che quindi c'è una Milano che non ti piace hai usato questo per testo un po' per ho usato questo per testo per un motivo molto semplice che io non sono fiorentina e quindi non potevo mettere un personaggio nato a Firenze perché io sono convinta che chiunque nasca in un posto ha delle caratteristiche sue io non posso mettermi nei panni di un fiorentino perché non sono fiorentina io sono lombarda ho sposato un milanese sono stata tantissimo a Milano ho un'idea di come si vive a Milano e quindi lei è milanese trasportata a Firenze questa è una cosa che io tengo molto cara perché comunque da un punto di vista proprio sociologico questo io sono convinta che un ragazzo nato a Firenze uno nato a Napoli uno nato a Roma uno nato a Palermo e uno nato a Milano hanno delle personalità diverse dei linguaggi legati al luogo quindi sto molto attenta allora io amo molto la città metropolitana anche se abito a casa di Dio eh sì ma è il marito che è così lui è milanese e l'ha portato a casa di Dio esatto no l'ha portato dove io sono nata perché a lui piaceva lì io tutte le mie protagoniste di tutti i miei libri vivono in città però nessuno è originario di quella città lì ok perché comunque io le città sono consapevole di viverle bene molto però le vivo da una che ci arriva da esterna non da nativa non da nativa perché se fossi nativa sarei diversa di conseguenza questo per me è un ragionamento che ho c'ho da sempre e quindi Lorena è milanese perché è trappiantata a Firenze poi lei è da 20 anni a Firenze chiaramente ha anche un po' di fiorentino nella parlata eccetera ha gli amici fiorentini vive la città benissimo però comunque i suoi primi 13 anni quindi l'imprinting come lo chiamano i sociologi e gli etologi è milanese e quindi io posso posso muoverla come so che si muoverebbe molto interessante molto interessante brava grazie questa è una di quelle risposte che intanto non ci avevano ancora dato no è vero è vero e che davvero approfonda frutto di uno studio che noi non abbiamo noi l'imprinting del sociologo non ce l'abbiamo no no anzi io non sono molto sociale però sei comunicativo ah sì questo sì ma è scienza della guarda la sociologia ha anche scienza della comunicazione cioè infatti io mi sono laureato proprio in quello e sei laureato in scienza della comunicazione qui a Milano a Milano via festa del perdono esattamente come me oh e con questo plot twist direi che possiamo salutare è stato stupendo grazie a voi ragazzi mi sono divertita un sacco una cosa un'autrice un'autrice veramente valida veramente se ve lo dice una criticona come l'ha sorgato che vi dà appuntamento alla prossima puntata di risolto giallo alla prossima grazie a tutti buona serata quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo grazie a tutti grazie a tutti